23. L'infinito è tranquillo. Domanda. Se non è presunzione da parte mia, vorrei un tuo pensiero su Dio. Entità. Un mio pensiero su Dio sarebbe assai poco comprensibile per voi, perché io lo sento, lo accetto e lo amo da un livello notevolmente superiore al vostro e non per una questione di evoluzione spirituale, ma semplicemente perché in questo momento io sono uno spirito e voi siete degli uomini. Come tale ho una dimensione interiore di Dio più pura, più libera, senza alcuna interferenza di tipo umano, perché ho una differente visione di certe cose, anche se non di tutte. So che Dio mi ha dato i mezzi per cercare la conoscenza e non può darmi altro. Dio è la stessa vita, intesa come principio e volontà. In conseguenza di ciò, noi tutti sappiamo di esistere in eterno, perché Lui è là, misterioso e lontano, finché si vuole ma esistente come nostro perenne riferimento. Per il fatto che Egli è là, tutta l'evoluzione infinita e universale, non può che concretizzarsi attraverso la pace, per cui l'infinito è tranquillo e nulla può verificarsi di diverso da quanto Dio stesso ha stabilito, in quanto forza motrice di tutto ciò che io riesco a conoscere. Non è retorico o poetico ciò che vi dico, ma è una percezione autentica che nasce in me nello stesso istante in cui dico queste cose che scaturiscono dalla mia essenza.